Ciao a tutti, stasera video molto blando perché è tardi, però volevo fare su questo video che è da giorni che volevo farlo per recensirvi tutti i prodotti della marca Alverde che ho comprato al DM qualche settimana fa mancano soltanto due doccia schiuma, ma erano due semplicissimi bagno schiuma che uno sono finiti ma erano quello col pack giallo al mandarino e quello col pack verde al rosmarino due semplicissimi doccia schiuma, quindi non c'era da dire molto doccia schiuma questa è la recensione, però questi magari sono i prodotti un po' più specifici quindi volevo farveli vedere e dirvi la mia opinione ora andiamo a risposto, esposto i prodotti è sera quindi non so cosa venga fuori, cadrà di sicuro qualcosa ma fa niente adesso iniziamo da questo, è l'ultimo che è rimasto questo è lo shampoo solido di Alverde, ci sono due profumazioni al cocco che ho preferito rispetto a quella all'arancio perché a me non piace tanto la profumazione arancia per il corpo le ho provate come il doccia schiuma, però non mi piacciono, mi sa di detersivo dei piatti ogni volta quindi ho voluto provare questa qua al cocco e questa è la scatolina è vuota io questo l'ho già usato e vi posso dire che non pensavo fosse veramente così buono come prodotto primo shampoo solido che provo, il prodotto è questo, 50 grammi di prodotto ci avrò fatto una decina di lavaggi, comunque è bello nuovo ancora lava e non pensavo, c'è una profumazione al cocco infatti dietro c'è scritto che comunque aspettate che metta fuoco magari ok ce l'abbiamo fatta, morbidi e lucenti quindi non sgrassa però io ci ho provato lo stesso pur di non prendere la profumazione all'arancia che è sgrassante, però devo dire che pulisce veramente bene quindi veramente ottimo prodotto e sarà da ricomprare anche se comunque voglio provare altri shampoo solidi tra cui negozio leggero e l'amazuna poi non so quali altre marche ci siano e andiamo poi, comunque molto buono, il prezzo era 4,50 però dura davvero molto, quindi ne vale il prezzo un altro prodotto sempre al cocco perché io adoro il cocco è questa maschera adesso vi faccio vedere l'etichetta ve la leggo formula arricchita di latte di cocco e olio di semi di girasole di agricoltura biologica capelli secchi e sciupati insomma idratano i capelli tenere 3-5 minuti e poi risciacquare questa qua lascia una profumazione davvero buona vabbè, in combo ovviamente con lo shampoo solido cocco, cocco, cocco ovunque è ovvio che qualcosa lascia per forza e questa la trovo molto idratante molto buono come prodotto ma anche questo veramente merita il prezzo di questo non me lo ricordo ma comunque era sempre sui 3,50 euro una roba del genere insomma e questo è il secondo prodotto sempre al cocco poi un prodotto che non mi è piaciuto invece è il dentifricio questo qui ora non so se ci siano altri modelli non lo so questo l'ho pagato 2 euro e non mi piace perché sembra cremoso aspettate che svito ok ma poi quando vai a pulire con lo spazzolino io ho lo spazzolino elettrico diventa acqua praticamente non mi piace per niente non fa schiuma né niente insomma lo finirò ovviamente ma il dentifricio non mi è piaciuto forse è l'unico prodotto di al verde che non mi è ancora piaciuto di quelli che ho provato poi crema viso rosa moschita questa qua non c'è veramente nulla da dire veramente buona idratante ora non mi ricordo qua non c'è l'etichetta perché c'era la scatola che io ho buttato però questo è uno dei prodotti chi sa il tedesco traduca pure però di solito la rosa moschita è un po' elasticizzante la fanno magari per le pelli un po' più mature niente da dire buonissimo questo prodotto e proverò altre creme viso perché meritano secondo me un altro prodotto che è uno dei a quanto pare uno dei loro prodotti di punta ne parlano tutti c'è anche la taglia la mini taglia che però non vale il prezzo secondo me non vale il prezzo non mi ricordo quanti grammatura era però in negozio mi ero messa lì a fare insomma la divisione costa molto di più quella mini che questa grossa quindi a sto punto si travasa questo è il prodotto 200 ml rende la pelle lisce priva di coloranti bla 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 e questa mi ricorda tanto il burro corpo di Lidl quello burro di karité tonka veramente buono è cremoso è densissimo veramente buono questo qua idrata idrata tanto ed è veramente buono lo adoro insieme a quello di Lidl c'è una classifica una preferenza sono tutti e due buoni quindi questo abbiamo quasi finito questo è un prodotto che effettivamente non so se funziona o meno io lo uso nella speranza che funzioni è un fluido per le punte per il riparatore delle punte con avocado e burro di karité 30 ml cioè prima di asciugarti i capelli lo metti un po' sulle punte ora io spero funzioni non è che da esperta ho visto differenze però magari le fa ma io non le vedo però lo continuo ad usare il profumo è buonissimo è all'avocado comunque l'avocado è riparatore infatti adesso vi faccio vedere l'altro prodotto all'avocado e niente io spero funzioni poi vabbè per ora si finisce eccolo qua l'altro il balsamo all'avocado questa è una profumazione adorabile il balsamo veramente si sente la differenza quando lo si usa o meno quindi è uno dei prodotti secondo me più buoni capelli danneggiati tendenti alla rottura senza siliconi massaggiare i suoi capelli bagnati e lasciare agire brevemente molto buono ora i prezzi di molti non ve li ho detti ma comunque niente superava i 4,50 la cosa più cara che ho comprato è stato lo shampoo solido e infine prima cosa di make up che provo di al verde è il correttore perché mi è finito l'altro di la vera quindi mi serviva un correttore e l'ho comprato questa è la porcellana 02 metti a fuoco grazie ok porcellana e devo dire che mi sembra uguale come colorazione e coprenza è uguale a quello di la vera però il prezzo è molto ridotto la vera costa 8 euro questo ne costa sì sui 3,50 tra il 90 non mi ricordo adesso ne ho messo troppo veramente però vabbè questo è per rendervi l'idea che comunque una colorazione ce l'ha non è trasparente quindi ultimo prodotto di sicuro provo altri prodotti e